Buongiorno Buongiorno Si è stato un uomo Che si porta in certaine Quindi , e nei prossimi anni Premeremo anche dei quadri Ad erenso alcnico Perché le opere d'arte Ne sono tante Che devono essere messi Se lei vede cui L'intensità dei personaggi e queste Quee ha una bellezza paragonabile un'artide, un'aculopide arte, un'intenzionista napoletano, noi degli impressionisti napoletano, avete due sfini, dovessi pensare queste fisiche, sulle dune, una duratura che toglie un tocco, un tocco, un tocco, un tocco, un po' di portare, lo vedete? No, questo è un'intenzionista, un'appuntata, questo, questo, me lo disse il Gatti, il Gatti mi fa forse per Napoli, viene a vivere queste opere, il Gatti, 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 di compita le sue opere, anche gli edifici, i palazzi, proviamo, mettiamo in evidenza le nostre persone.